Che cosa c'è dentro una bottiglietta di Yakult? C'è una lunga storia di ricerche e di esperienza specifica nei probiotici. C'è il lactobacillus casei shirota per aiutare la salute dell'intestino e quindi il sistema immunitario. C'è una cultura della salute che raggiunge ogni giorno milioni di persone nel mondo. E ci sei tu, con tutta la tua voglia di benessere. In Yakult c'è molto più di quello che bevi. Grazie a tutti.